Sì il video è partito Mi sono già vedendo ragazzi la faccia Perché non serve che ve lo dico voi questo video l'avete già visto Guardatevi negli occhi E rispondetemi sinceramente Ho pure i capelli tutti scompigliati oggi più del solito Secondo voi Secondo voi no La Longsword ne aveva bisogno In totale onestà ne aveva bisogno Secondo me No Non so nemmeno quale sarà l'impatto finale in realtà di questi cambiamenti Perché in realtà non sono nemmeno convinto al 100% che sono dei buff Vedremo Perché la cosa è questa è che Io credo che Capcom stia cercando di pushare un ulteriore playstyle Il sito oltretutto dà delle informazioni extra che il video non dà su entrambe le cose che hanno fatto Però io non sono certo che sta cosa risulterà un cambio in playstyle Per colpa stavolta Delle switch skill e comunque del power della potenza della roba che c'è prima adesso Anche se ripeto io un nerf all'elmbreaker me lo aspetto comunque Comunque Benvenuti ragazzi questo è un video di mostrare un'interdata Adesso oggi andremo a parlare della Longsword E di quello che hanno fatto vedere L'E.K.A. dell'Arma Dio Ok? Ancora una volta Cosa gli hanno aggiunto Anzi cosa noi gli hanno aggiunto Ragazzi Harvest Moon Allora ragazzi Questa roba qui non dice niente Ok? Qui ti dice Land encounters within the ring Will add additional kits In realtà Sta roba qua non è tutto oro Quel che luccica Perché innanzitutto Noi siamo limitati nel raggio Ok? Quindi vuol dire che Noi dobbiamo stare dentro a sto ring Altrimenti l'effetto svanisce Non c'è più Non hanno specificato Se proprio l'effetto Non c'è che ti toglie il ring Oppure Cioè ti toglie l'anello che si crea Oppure Semplicemente non ha effetto Mi aspetto di più il secondo Però appunto Ci confina In un certo senso Che non è mai una bellissima cosa Il Monster Hunter Specialmente Un Monster Hunter così mobile Ok? Come Monster Hunter Rise Quindi appunto Non è tutto oro Quel che luccica Sta roba qua Però in realtà Fa due cose Qui dice Aggiunge colpi extra A tutti i nostri counter Adesso nel video Altrutto faccio Fa vedere in realtà Un paio di esempi Per favore Ok Fa vedere un paio di esempi Ok Vedete che Anche il Forsyth Slash Fa più colpi Leo Spiritia Slash Fa più colpi E immagino anche Critical Juncture Faccia più colpi Comunque tutte e tre Le hit Le hit Facciano più colpi Però ne aggiunge davvero tanti Ok? In senso che Questa roba qua Comunque potenzia Di parecchio Insomma Tutta quanta la storia Succede anche un'altra cosa Succede che Mentre siamo qui Questa cosa qui Non lo dice Lo dice solo sul sito In realtà Mentre noi siamo All'interno di quest'anello Ci avremo La barra spirito Che non scende Quindi vi ricordate Per esempio Monster Hunter Generations L'arte Quella dove voi facevate Sta movenza Del Longsword Vi dava Lo spirito infinito Essenzialmente Pare che sta roba qua Fino a quando noi siamo Dentro il ring Abbiamo spirito infinito E questa è la cosa Per cui vi dicevo Stanno cercando forse Di enforzare Uno stile Più Elemental Based Più Meno che tu vai in rossa Counti in rossa O usi counter Per arrivare in rossa E poi In realtà Quello che conviene fare A livello di consistenza In generale È Stare lì E fare infinite Combo spirito Al mostro Proprio di agilità Quindi R1 R1 Triangolo cerchio R1 R1 Triangolo cerchio R1 Io faccio Vabbè Io R1 Perché Può switchare i controlli Però R2 R2 Triangolo cerchio Quindi state lì Infoderate Counter Infodiri Counter Switch Counter Foresight Che abbiate Barra infinita Counter E continui a fare A build upare questi counter Multit E il multit è forte Con l'elemento E Non usate Lo spacca elmi Quindi chiaramente Sarete più a terra Usate magari Sakura O quel che è E quindi rimarrete lì A terra Dentro il cerchio Che ovviamente Vi rifrescerete Ogni volta che finisce E continuerete a fare Combo spirito counter Combo spirito counter Combo spirito counter Combo spirito counter E questa roba qua Chiaramente è un playstyle Che è migliore Per quanto riguarda Le long sword Stato elementali Ok in generale Perché A Multit ripeto Favorisce sempre l'elemento E B Eccetto appunto Se non fanno come Per lo spacca elmi Che obliterano Un moltiplicatore Ma non dovrebbero E B appunto Semplicemente Se ho combo spirito Infinita Chiaramente posso Prendere vantaggio Di poter spammare Praticamente In eterno R2 Quindi è molto buono Molto forte Il mio dubbio Appunto però È che Cioè Questo può sostituire Lo spacca elmi Il dps lo spacca elmi Forse il dps no Vedremo Quindi ci sono un po' di Che questo qua È uno di quei gambe In cui io credo Che loro stiano provando A inforzare A pushare Un altro stile di gioco Ma non so Quanto effettivamente Ci riusciranno Su questa cosa Perché è una cosa Probabile Che può succedere Che semplicemente Noi usiamo sto ring E poi ci mettiamo Lo spacca elmi Ed è come se nulla fosse Praticamente Raga E quindi Quindi faccio il ring Arrivo in rossa Semplicemente uso il ring Perché È comodo Il buff che mi dà È pace Cioè capito Però in realtà Non sto cambiando Il mio playstyle Comunque però Il mapbreaker Spam E via dicendo E appunto E oltretutto La cosa è che Sostituisce Critical Juncture Non sostituisce C'è quell'altra skill lì Sostituisce Critical Juncture Non sostituisce appunto Il Soaring Kick E Sakura Slash Anche per fortuna A dir la verità Ok Questa qua È un secondo cambio Che è molto più particolare Il primo è lo Special Sheet Ok Quello che sappiamo già Il secondo è questo Sacred Sheet Combo Che oltretutto Innanzitutto L'animazione è bellissima Cioè questo lo devo dire L'animazione qua È spettacolare E Essenzialmente È una Movenza particolare Anche qua il sito Lo spiega molto meglio Di prima Praticamente Voi potete Entrare in questa posa Molto 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 lenta Ora durante tutta Questa animazione Voi siete totalmente Vulnerabili Il sito Ve lo posso far vedere Purtroppo il sito oggi È spaccato Poi ve lo farò vedere Durante tutta questa movenza Siete totalmente Vulnerabili E Non solo C'è scritto sul sito E poi ve lo farò vedere Che Se il mostro Per qualsiasi ragione Vi colpisce Durante questa animazione Vi butta via L'azione viene cancellata Quindi voi avete letteralmente Perso Avete preso danno Avete perso tempo Avete perso i wireback No i wireback Avete perso tempo E Vi decrementa A livello della barra Spirito di uno Quindi se la rossa Va gialla Quindi questo qua Effettivamente ha un enorme Panish Perché guardate quanto è lento Questa è palesemente Un'azione da opening Dopo la fine di tutta Questa animazione Entriamo in questa ulteriore Posa che possiamo caricare Questa è oltretutto Una posa identica A una che c'è Su Monster Hunter Frontier Dove c'era una meccanica Simile Però anziché scaricare I livelli barra Spirito Scaricavate L'energia spirito Ok Non i livelli Ma Proprio la barra Ok potete caricarla E più la caricate Più ovviamente fa Questa mossa Che immagino faccia Un male porco Chiaramente Ora Ritorniamo un attimo indietro Perché vorrei anche Un attimo parlare Di questa cosa qui Perché ragazzi Cioè Abbandonare lo special shit Vuol dire Non avere più accesso Allo spiriti high slash Non avere più accesso Allo spiriti high slash Non è una cosa da poco Perché lo spiriti high slash È rotto Ma tanto rotto E per quanto si Possiamo continuare A counterare Con il foresight slash Abbiamo comunque accesso A un counter in meno Quindi Io credo che Ah Sta mossa è talmente Tanto forte Che vale la pena Giocare old school World base E fare sta roba Che quando il mostro Va in opening Gli devasti l'esistenza Ok Perché ragazzi L'animation Sta cosa qua O la Ci sono Cioè per farla bene Lo fai quando il mostro In opening Punto Non lo fai Consistent wise Ok Oppure Oppure Dobbiamo rinunciare Appunto Allo spiriti high slash Vero è anche Che con Perché Ed è questa appunto La cosa che in realtà Mi preoccupa un pochino Che In realtà Qui entra il problema Che vi dicevo Che stanno riducendo Il commitment to action Perché per esempio Questa cosa qua Ha senso No Però adesso ci sono Le switch skill Quindi io posso Tenermi lo spiriti high slash Quindi lo special shit Normale Il mostro In opening In realtà È esattamente Quello che è successo Nel video Demostrativo Qui Che Lui fa Le sue combo Ok Dopodiché Appena all'apertura Si fa Si fa Il suo sakura slash Si posiziona Si fa La sua animazione Bella Pesante E Fai E fai Il silk E fai L'azione nuova Questo sacred shit E poi torni a usare Lo spiriti high slash Normale Questa è la cosa Che mi preoccupa un po' di più Cioè nel senso Che in realtà Non dobbiamo committare Per fare questa cosa Questa è letteralmente Gratis Ora è da vedere Se è più forte Dello spacca il mio O no Ma my guess is yes Secondo me Sta roba fa un male Fa più male Nell'embrega Fa più male Di qualsiasi altra mossa Perché ha Un animation commitment lungo Punishment Ti toglie lo spiriti high slash E puoi anche caricarlo Io credo che Tipo sta roba Sarà tipo una roba Che tipo Ho detto tipo 160 volte Obliterai i mostri Se li prendi bene Perché ha troppo Commitment Cioè se non ha così Tanto commitment Non lo userà mai nessuno Perché a quel punto Switchi Cioè ti tieni Lo spacca Fai lo spacca il mio Che cazzo devi fare Se no Sono molto curioso L'animazione è bellissima Oltretutto ripeto Quindi In TLDR Aspetta ti faccio Passiamo un attimo al sito Anche se è rotto Ve lo faccio vedere Ugualmente Purtroppo è rotto ripeto Per rotto intendevo questo Che per adesso si vede così Lo faccio vedere di nuovo Tipo Sacred Shit Combo Che è appunto Quello che vi dicevo Dice Upon shooting your weapon You can L'ho messo in inglese Perché in italiano È tradotto Cioè C'ha Un lettere a caso Praticamente Vedi Ok Upon shooting your weapon You can Harness The increased spirit To unleash a follow up slash The power of the slash Increases according to the level Of the spirit gauge Quindi ovviamente Più facciamo Più il nostro livello spirito È alto Più fa male Se siamo attaccati Appunto Consumiamo un livello spirito E la mossa è cancellata E poi questo qua L'harvest moon dice Che appunto Ci rivistiamo di iron sink Creiamo un anello Abbiamo Il boost Agli spirito Abbasso lo spirito Ok Fino a quando siamo nell'anello Il nostro spirit gauge Non scende Questo appunto Non era scritto nel video E se facciamo Qualsiasi counter Farà un hit addizionale Per come è frasata Questa cosa Questa perché È il mio ulteriore dubbio Che Sembra che abbiano messo In priorità Ok Il tuo spirit gauge Non scende Priorità 1 Priorità Cosa numero 2 E i due attacchi Fanno un hit addizionale Quindi per me Design wise Questa cosa qui L'hanno voluto incentrare Di più su questa parte Che sul resto Secondo me Hanno più da doppi Peso a questo Che in realtà è così Cioè Perché comunque Questa roba Ha più valore Di questa Sper il playstyle Che vogliono Inforzare loro Vedremo appunto Quale è il risultato finale Però il TLDR È che comunque Anche se Questa roba qua Magari diventa situazionale Quindi ce la mettiamo Solo in switch skill Ok Quindi ok C'abbiamo una Il nostro setup A Che non lo ha Il B Invece che C'ha tutte e due Che c'ha sto silk bind C'ha larves moon Plus C'ha sia larves moon Che la Sacred sheet È comunque un buff Alla longsword ragazzi Quindi io spero che Questi buff Siano backupati Da appunto Abbassare un attimo i numeri Perché comunque Ripeto È bellissimo Cioè entrambe queste mosse Hanno un bellissimo design Indietro Il problema della longsword Semplicemente è che È troppo forte In questo momento Cioè c'ha troppa È troppo facile da usare Rispetto a quanto è forte Semplicemente Però non è che è facile Da usare in assoluto Ripeto Dato il gioco in mano A una persona A una qualsiasi persona E la persona esplode Cioè non è Non c'entra niente Però comunque A paragone delle altre armi È palesemente Un'arma god tier C'ha un passo in più E quindi Diciamo che rispetto all'arco Che ha ricevuto Dei cambi così E appunto L'epiboga Anche l'altra arma in god Ha avuto dei buff Ma su roba che non usava Quindi aumenta La variety più che altro Sta roba È un buff diretto Come lo volete vedere Lo volete vedere Sta roba è un buff diretto E quindi io spero Che questo buff diretto Sia compensato da Un altrettanto nerf diretto Sui numeri Quindi vedremo un attimo Perché ripeto Cambiamenti fighissimi Però Il tuning Non è secondario In Monster Hunter Ok Quindi ragazzi Grazie per aver visto questo video Queste erano le mie opinioni Le mie impressioni Da Spec è tutto E noi ci vediamo alla prossima Grazie per aver guardato il video